Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. L'edizione 85 di Miss Italia ha finalmente incoronato la sua nuova regina, Ophelia Passaponti, 24 anni, originaria di Siena. La giovane toscana ha superato centinaia di concorrenti per aggiudicarsi il titolo che molte ragazze sognano da sempre. Al secondo posto, Elisa Armosini, sarda di Iglesias, seguita da Mariam Adiop, Miss Framesi Lombardia, al terzo. La serata, presieduta dalla celebre Martina Colombari, ha visto sfilare sul palco le 15 finaliste, selezionate dopo una lunga fase di eliminatorie che hanno coinvolto inizialmente ben 220 partecipanti. Ophelia, che ha conquistato il pubblico con la sua grazia e semplicità, ha pronunciato poche ma sentite parole subito dopo la vittoria, è un onore aver vinto, non me l'aspettavo. Spero di portare questa fascia con onore. Dedico la vittoria alla mia famiglia. Ma chi è questa nuova Miss Italia? Ophelia è nata il 20 giugno 2000 e vive a Siena. Oltre alla bellezza, vanta anche un notevole percorso di studi. Sta infatti per conseguire la laurea magistrale in strategie e tecniche della comunicazione. Non solo studio, Ophelia è anche una sportiva e pratica pallavolo a livello dilettantistico. Nel tempo libero lavora come hostess, ma la sua grande passione rimane la moda. Partecipare a Miss Italia, racconta Ophelia, mi offre l'opportunità unica di coniugare le mie due passioni principali, la comunicazione e la moda. È un sogno che diventa realtà, e non vedo l'ora di esplorare tutte le opportunità che questo titolo mi aprirà. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Tornando a Ophelia, oltre alla vittoria di Miss Italia, la sua strada sembra ben tracciata, con una formazione accademica in comunicazione e un grande interesse per la moda, potrebbe diventare presto un volto di spicco nel panorama italiano. Il concorso di bellezza, che spesso offre una spinta decisiva per entrare nel mondo dello spettacolo o della moda, è solo il primo passo per questa giovane ambiziosa. Nel frattempo, la domanda che tutti si pongono è, cosa riserverà il futuro per Ophelia Passaponti? Sarà solo l'inizio di una carriera sfavillante nel mondo della moda o dello spettacolo? Noi non vediamo l'ora di scoprirlo. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.